Ciao, sono Giulia Braschi e ti do il benvenuto su I Love Italian Shoes Web News. Asso Calzaturifici Si è svolta il 4 giugno scorso l'assemblea annuale di Asso Calzaturifici, in cui è stata presentata la nuova brand identity dell'associazione. Il percorso della riformazione della brand identity è passato attraverso il MICAM, la nostra fiera, adesso arriva all'associazione. Come vedete si tratta anche di un segno grafico importante, l'Aquila della Confindustria, per ricordare come Asso Calzaturifici italiani faccia parte del sistema confindustriale. E comunque per noi è importante anche comunicare in maniera moderna, in maniera chiara, ricordare che noi siamo i produttori di calzature italiane, quindi dal ficere latino, l'Asso Calzaturificio, ma poi è anche importante lavorare con tutte quante le realtà che si occupano di moda e comparto moda calzature senza incorrere più in qualche errore tra lanci dei comuni italiani, tra lanci degli edili. E quindi abbiamo una nostra identità molto chiara sulla quale vogliamo molto lavorare e investire per il futuro. Sicuramente quello di difendere la manifattura, infatti ci chiamiamo Asso Calzaturifici, non calzaturieri, quindi produttori veri e propri, con pieno rispetto di chi commercializza. I nuovi progetti sono quello di portare queste aziende calzaturiere, manifatturiere in tutto il mondo. Ci abbiamo provato con successo con Demikam Shanghai, ovviamente va consolidato, ma continueremo anche con altri Demikam, nel progetto che Jimmy Baldinini segue con molta attenzione e competenza, vorremmo sbarcare negli Stati Uniti e poi anche arrivare in Russia, dove abbiamo già l'Obuv, ma vorremmo che diventasse Demikam a Mosca. Giorgio Squinzi sui calzaturifici Tra i relatori e gli ospiti dell'Assemblea è stato presente Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, che ci ha esposto alcune riflessioni sul settore calzaturiere italiano. Confindustria rappresenta tutte le imprese in prima linea, tutte le imprese manifatturiere del Paese, e per noi Anci, i calzaturieri, sono uno dei punti forti del nostro sistema robocleccativo. Sicuramente l'Italia manufatturiera, che deriva poi anche dall'artigianato, dalla capacità di saper fare al meglio, meglio di tanti altri, è centrale per Confindustria, per il sistema manufatturiero del Paese. Vorrei ricordare che la crescita la possiamo ritrovare nel nostro Paese solo partendo dall'impresa, in modo particolare, dall'impresa manufatturiera. Seguite tutte le novità su I Love Italian Shoes Web TV. Mercoledì nella rubrica Do You Like It? La tua coach Veronica Benini intervista Florenze Di Stefano. Junk Shoes, come sceglierle? Giovedì su Lacy's. La presentazione della nuova Brenna Identity Asso Calzaturifici, martedì, in videoteca. Su I Love Italian Shoes.tv tante novità, curiosità, notizie legate al mondo della calzatura e tanto altro ancora. Se ami le scarpe, sei già su I Love Italian Shoes Web TV. notizina per lonti,-o novità,blico. notizina per lontini